... Seduti sugli scogli del ponte di San Ludovico, sulla spiaggia vicina, Eritrei soprattutto, ma anche somali siriani, molti, moltissimi di loro in fuga dalla Libia, con la polizia che presidia starade e territori vicini. Si presenta così la frontiera Italia-Francia, il centro adesso delle tensioni europee sul tema sempre più caldo dell'immigrazione. Con la linea di confini a 20 miglia chiusa da quasi tre giorni ai migranti che cercano di raggiungere il nord Europa. E l'attenzione, Italia-Francia sale. Il Viminale punta il dito contro il governo di Parigi. Avete sospeso la libera circolazione prevista dal trattato di Schengen. Poi la replica francese attraverso un dirigente della prefettura delle Alpi Marittime Francesi. La frontiera italo-francese non è mai stata chiusa e Schengen non è mai stato sospeso tra la Francia e l'Italia. Chi vuole circolare nello spazio Schengen può farlo liberamente. Resta invece attivo, spiegano, il controllo e il riaccompagnamento alla frontiera italiana degli stranieri regolari sulla base degli accordi franco-italiani. Per qualcuno un segnale politico chiaro sulle quote dell'Unione Europea, ma dal governo di Parigi nessuna dichiarazione si preferisce a tenere un profilo basso in questa fase, mentre la Germania ha annunciato per oggi l'apertura delle frontiere chiuse per il G7. Ma nel confine c'è adrenalina nell'aria con i migranti che ieri si sono rifiutati di salire sui pullman della Croce Rossa per andare in stazione dove Comune di Ventimiglia e Prefettura d'Imperia cercano di allestire zone riservate e protette. Un gruppo di neofascisti francesi ha raggiunto il territorio italiano protestando contro la presenza dei richiedenti asilo e un no secco ad allestire Tendopoli arrivato anche dal neogovernatore della Liguria Giovanni Toti. Ventimiglia resta ancora come un grande campo profughi. Domenica prossima il presidente François Hollande incontrerà a Milano in Expo il premier Matteo Renzi.